Ingrid Vazzola, insegnante di Bruno, residente a Doviglio, incinta di otto mesi, era morta il 18 giugno del 2019 all'ospedale di Alessandria in seguito ad un'infezione da streptococco emolitico dopo due ricoveri d'urgenza al pronto soccorso. Ma per individuare quell'infezione che poi l'ha uccisa, è stato fatto tutto ciò che si doveva? A queste domande sta cercando di dare una risposta al processo in corso in tribunale ad Alessandria dove imputati per omicidio colposo sono due medici. Il dottor Angelo Chiappano del pronto soccorso ed Ezio Capuzzo, ginecologo. L'udienza di questa mattina era dedicata proprio alla testimonianza dei due imputati e di alcuni testi. Per capire che cosa emerge da quest'udienza possiamo riassumere brevemente quanto successe la notte tra il 17 e il 18 giugno. Ingrid Vazzola è incinta all'ottavo mese. Improvvisamente la sera del 17 accusa un forte dolore al ventre, vomita e dà la febbre. Viene portata in pronto soccorso dietro indicazioni della ginecologa che la sta seguendo. Qui viene visitata e le viene somministrata una tachipirina che inizia ad avere effetto. Le fanno tutti gli esami del caso, tra cui un'emocultura. Poi viene portata anche in ginecologia per una visita che non evidenzia nulla di anomalo. Rimandata al pronto soccorso, il dottor Capuzzo nella cartella scrive che la paziente è nella norma per il decorso della gravidanza e che nel caso si ripresentassero gli stessi sintomi dovrà essere ricontrollata. La donna rimane in osservazione al pronto soccorso dove al mattino alle 8 prende servizio il dottor Chiappano. Ingrid Vazzola sta meglio e vorrebbe andare a casa. I risultati dell'emocultura non sono ancora noti. Generalmente, dicono tutti i medici ed infermieri che sono passati in ascolto, non arrivano mai prima delle 24-48 ore. Se poi i pazienti hanno un'infezione e sono a casa, vengono richiamati per la cura. Di fatto sono quasi le 10 del mattino quando Ingrid Vazzola viene dimessa. Dopo un'ora, in preda agli stessi dolori e febbre, arriva di nuovo in pronto soccorso e poi di nuovo in ginecologia dove si vede che la bimba non ha il battito, si decide di fare un cesareo d'urgenza. Il fetto è già morto. Poco dopo, in seguito a grandi perdite ematiche, si decide anche per l'asportazione dell'utero. Durante questa operazione i medici vengono a conoscenza di un'infezione da streptococco. Ingrid Vazzola muore poco dopo. Di fatto, da questo episodio del 2019, più nessun pronto soccorso dimette un paziente prima di avere i risultati di un'emocultura. Il dottor Chiappano ha ribadito come l'insorgenza da infezione da streptococco sia molto subdale, improvvisa e spesso fatale, come una meningite fulminante, ha detto. Il dottor Capuzzo ha voluto ribadire che la sua visione clinica della paziente era stata falsata da una techipirina data al pronto soccorso che ha fatto abbassare la febbre della paziente, altrimenti lui avrebbe dato un antibiotico ad ampio spettro. Anche senza sapere che era in atto un'infezione. Sia il dottor Capuzzo che il dottor Chiappano però hanno affermato che la rapidità del batterio non avrebbe potuto essere fermata da una somministrazione di antibiotico che comunque ha bisogno di circa 24 ore per diventare operativo in tutto l'organismo.